Volevo chiedervi se potevo andare alla festa di fine anno di Rosario Caruso. Caruso, Caruso? I miei non mi mandano alla festa di Caruso. Doverò stare tutte le state con mio padre e andare in giro per le sezioni. Tu, complice della svolta di Occhetto. Cos'è? Il pioniere. La rivista degli scout comunisti. Renato, facciamolo pure noi. Che cosa? Un campeggio. Che fate a vissi di così? Campeggio comunista. Appunto. Oggi è il giorno in cui il compagno Belfiore e il compagno Magenta rifondano il reparto Antonio Gramsci dei pionieri d'Italia. Gloriosamente estintosi nel 1975. È vero che i femmini comunisti sono delle belle troie. Ma tu non sei di fascista. Quando si tratta di femmini, che me ne frega della politica a me. Dovevo liberarci lui. Che per caso hai visto Renato e Enrico tra ieri e oggi? Non mi sembra. Si può sapere cosa state facendo? Siamo venuti in questo bosco per rifondare un reparto dei pionieri. E che sono? L'organizzazione ricreativa dei ragazzi comunisti. Ma il comunismo è finito. Non qui. Senta signora, cercateveli voi intanto. Sono sicura a vedere la partita dell'Italia, ve lo dico io. Mio figlio non ci sarebbe mai andato. Renato ti fa urso. Grazie a tutti.